Se vuoi facilitare gruppi, avere un altro punto di vista rispetto alla gestione dei conflitti e contribuire alla costruzione di una pace attiva, leggi La Comunicazione in Cerchio. Sono Antonio Graziano e ho scritto questo libro per creare uno strumento a servizio di persone impegnate nell'educazione, nell'insegnamento, nello yoga e in altre discipline olistiche, nel mondo della salute, ma anche a servizio di persone impegnate nell'attivismo sociale, politico e ambientale e nella costruzione di nuove comunità. All'interno di questo libro troverai casi di studio, riflessioni e esercizi pratici per poter lavorare su te stesso, sulla tua centratura personale e sulla gestione di processi collettivi. La Comunicazione in Cerchio è un libro, uno stile di vita ed un percorso di crescita personale e collettiva. E' un cammino per ritornare al cuore.